Sepe è il nuovo portiere vice provvedel della Lazio Ufficialità annunciata nelle scorse ore Il giocatore che ha fatto già le viste mediche Sarà pronto ad accasarsi alla squadra laziale Stasera non c'è più a parlare Per ricoprire il ruolo di vice provvedel Andremo a parlare di questa operazione di mercato in questo video Prima di tutto il like, commento, istruzione, condivisione e campanellina Cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele, che vi costano poco Con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare Rimandete a girare sul canale a 360 gradi Quindi vi aspettate, fatele Se volete laziali e non Ditemi la vostra acquista nei commenti Sul nuovo acquisto della Lazio E io adesso vado a dirvi la mia Allora, ufficialità arrivata nelle scorse ore Sepe è un nuovo calciatore della Lazio Ricoprirà il ruolo di VGT2 Eh sì Ma stasera che c'ho nel cervello Ricoprirà il ruolo di vice provvedel Sinceramente non mi convince proprio appieno Cioè, capisco che comunque debba ricoprire il ruolo di vice provvedel Ok, è tutto Però sepe non lo vedo un portiere da big Anche se deve ricoprire il ruolo di vice Cioè, non mi piace Un portiere che non mi è mai piaciuto Ecco Però, dai Può fare la sua buona parte Se proprio proprio vogliamo Salvarlo Non mi convince tanto neanche Anche se deve fare il vice Però, vediamo Avrei Allora, avrei 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 fatto mio Ioris Se io fossi stato un tifoso razziale Nella dirigente della Lazio Avrei voluto assolutamente Ioris Perché con Ioris e provvedeli in porta Stavi a posto Stavi da Dio Invece con prove del sepe Prove del primo Ok, ma sepe come secondo Non mi convince Assolutamente Non mi convince proprio Sarà una mia opinione Però A me proprio non convince Z Beh Si poteva prendere assolutamente di meglio Secondo me A parte che secondo me È uno scandalo Mandare via Maximiano Dopo solo un anno In cui non gli è dato minimamente fiducia Sepe è ancora più uno scandalo Però, vabbè Magari Verremmo smentiti Chi lo sa Questa è la mia opinione Su sepe Che è un nuovo calcettore della Lazio Se volete Ditemi la vostra posizione In commenti Lasciate un like Commenti In sezione Condivisione In campanellina Laziale Non Voglio sapere la vostra posizione In commenti Per me Non è un portiere da big Anche se deve svolgere Il ruolo di secondo Però Vediamo Padre Tempo ci dirà tutto Ciao